Amianto fantasma nella sede tua di Chieti. Il distretto teatino sarà chiuso, accorpato a quello di Pescara. Questo quanto già annunciato dal presidente del trasporto unico abruzzese Gianfranco Giuliante. Tra le motivazioni che hanno portato a questa decisione, in primis vi è la questione sicurezza. Nei tetti della sede di Chieti, infatti, ci sarebbe l'amianto, che sporrebbe a gravi rischi la salute dei dipendenti. Ma questo racconto dello stato delle cose Federico Gallucci non ci sta e a nome della proprietà del distretto tua di Chieti replica duramente al presidente Giuliante. Come proprietà siamo rimasti attoniti dinanzi alle reiterate e dichiarazioni che ha reso il presidente Giuliante su una serie di fatti e circostanze dei quali lui evidentemente è totalmente disinformato. Il pericolo dell'amianto in quel distretto non c'è assolutamente perché sin da lontano 1996 la proprietà a cure e spese personali, spendendo oltre 100 milioni delle vecchie lire, provvide a inscatolare l'amianto. Faccio presente che per legge, il presidente Giuliante Questo dovrebbe ben saperlo, sui siti estesi l'amianto non si rimuove perché è pericoloso lo sgretolamento. L'amianto si inscatola, peraltro una volta inscatolato va monitorato, a cura e spese del proprietario l'ultimo monitoraggio risale a pochissime settimane fa e l'amianto è pari a zero, quindi non soltanto non c'è, ma in quel distretto possono andarci tranquillamente a spasso i bambini delle scuole elementari. Peraltro, per quanto riguarda anche il discorso della gravosità, la proprietà in questi anni, ben 39 anni, ha sempre collaborato economicamente alle opere di manutenzione non dovute e ci sono diecine di lettere scritte dal proprietario con cui questa volontà a collaborare economicamente persiste a tutt'oggi. Francamente non riusciamo ancora a capire qual è il motivo di questo atto cervellotico fatto nei confronti del distretto della tua richiede. Gallucci chiede subito un tavolo per derimere la questione, sempre che non sia troppo tardi per abrogare il progetto. La proprietà ha scritto, sin da qualche settimana fa, e ha reiterato una richiesta di incontro con i vertici, sia con il presidente Marsiglio che con il presidente Giulianti, perché vorremmo aprire un tavolo tecnico di confronto sereno e capire quali sono le motivazioni di questo atto così perentorio e ovviamente se ci sono dei margini, anche perché la persistenza di quel distretto è un fiore all'occhiello della nostra città.